buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele esposito prima di iniziare con un nuovo video vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina buongiorno ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele esposito ragazzi oggi 6 marzo 2021 vediamo se questi amici questa volta decidono di fare in purezza guardate questo maschietto come cova se non avete capito questa è una sfilde ali gialle astrali gialle scusate però guardate con quanto amore e dedizione è sul nido fino a ieri avevano avevano due uova quindi guardate che bellezza ragazzi però unica pecca non ho mai visto la femmina covare sempre il maschietto la prima cova erano uscite uova bianche vediamo questa volta se riusciamo ad avere dei pullezzi e vediamo se che effettivamente risultano piene guardate che bellezza ovviamente il nido non è proprio adatto però hanno scelto questo e vediamo se riescono nel loro intento sono animali che ho comprato l'anno scorso quindi è la prima esperienza con loro vediamo dove si portano questa è la prima cosa di quest'anno avevano fatto un tentativo l'anno scorso appena li comprai però erano risultate bianche le uova quindi vediamo quest'anno come si comportano guardate che bellezza ragazzi e non è per niente intimorito dalla luce del flecch bene ragazzi che dire se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti godetevi questo spettacolo ciao belli ciao